Musica Un cordiale saluto a tutti voi, ben ritrovati, buongiorno a tutti, sono le 7.30 Siamo in diretta qui dagli studi di Fano TV per la rassegna stampa Occhio ai giornali che come sempre va in onda tutte le mattine dal lunedì alla sabato Allora questa mattina con una novità che è stata annunciata anche ieri nel corso del telegiornale Cioè che questa edizione che va in onda comunque in diretta alle 7.30 Andrà in replica ogni quarto d'ora fino alle 8.30 quando poi ci sarà la Santa Messa Allora andiamo e cominciamo subito come di consueto con il Santo del Giorno Oggi la chiesa ricorda Santa Alselmo d'Aosta Il sole è sorto alle 6.14 e tramonterà alle 8 di questa sera Allora il tempo oggi è un bel tempo Bel tempo con cielo sereno, vedete la fotografia della nostra webcam La temperatura alle 7.30 è di 7.30, quindi un po' di più rispetto a quella di ieri alla stessa ora I venti oggi saranno di brezza tesa, il mare sarà poco mosso, le temperature in aumento Per la giornata di domani, mercoledì 22 di aprile, cielo sereno poco nuvoloso Temperature stazionari o in lieve aumento, i venti di brezza tesa, il mare sarà poco mosso Per la giornata di giovedì 23, cielo inizialmente sereno con aumento della nuvolosità dal pomeriggio Le temperature in ulteriori lieve aumento, i venti di brezza tesa, il mare sarà poco mosso Probabile lieve peggioramento invece nella giornata di venerdì Con indicazioni di tempo stabile e soleggiato per il fine settimana Andiamo a leggere i giornali adesso Cominciamo dal Resto del Carino che si occupa del Festival del Brodetto Un'altra di quelle manifestazioni importanti che nel corso di questi anni hanno acquisito sempre più rilevanza Anche a livello nazionale Però il Brodetto, come scrive il Resto del Carino questa mattina, va verso la cura dimagrante I soldi, le date ci sono, sono certe, i finanziamenti un po' meno Il Festival del Brodetto, alla sua prima edizione senza Ilva Sartini Che è la madre del Festival che è però andata in pensione a fine anno, a fine 2014 Dicevo, il Festival si prepara ad affrontare la battaglia delle risorse economiche Tiziano Pettinelli dice, non possiamo trasformarlo in una sagra, questo Festival E neanche però possiamo rimetterci dei soldi Di tutti i contributi sicuri, solo quelli di Camera di Commercio sono certi Poi il resto si decide a maggio Sulla pagina di Favo del Carlino c'è anche la notizia Sempre lo strascico del dopoaggressione avvenuto a questo ristoratore Che vedete nella foto, tutti solidali con i ravagli Lui teme però per sabato prossimo, intanto chiedono più controlli a Lido La zona mare di Fano con una maggiore presenza delle forze dell'ordine E anche l'installazione di telecamere Lo chiede la Confessor Centi di Fano ma lo sollecita anche il sindaco Massimo Seri Poi le classiche due notizie, una buona e una cattiva dalla regione Quella cattiva è che purtroppo il Comune di Fano è costretto a rimettere in mano Al bilancio di previsione 2015 dopo i tagli sociali comunicati dalla regione Si parla di 28 milioni di euro in meno per le amministrazioni comunali e gli ambiti sociali Quella buona e quella migliore è che la regione ha stanziato 750 mila euro Previa emanazione di un bando per contributi a fondo perduto Che serviranno per mettere mano ai danni subiti per le opere murari Ripristino di fabbricati, rifacimento degli impianti eccetera eccetera dopo il mal tempo Malatestiana, addio agli spettacoli Stiamo parlando della corte malatestiana Altri tempi, vedete qui quando c'era questa bellissima fotografia Quando c'era il Fano Jazz per esempio che suonava in gran parte alla corte malatestiana Sotto le stelle, davvero dei concerti bellissimi Pensiamo a tanti festival, festival di musica, danza e non so Beh insomma la città che cambia sarà sostituita dal cortile del Sant'Arcangelo Dopo decenni l'antico palcoscenico diventerà solo un giardino Il vice sindaco dice le abbiamo dato un ruolo più consono, quello per il quale era stata ideata Dalle pagine interne del resto del Carlino il grido di allarme del sindaco di Cartoceto Enrico Rossi Senza la Fano Grosseto siamo fuori dal mondo Rossi delinea tutta l'economia che svanisce senza la E78 Le nostre eccellenze per essere sfruttate devono essere internazionalizzate Poi buca nell'asfalto da Pesaro, vola contro un palo, un ciclista gravissimo a Colombarone L'incidente in fondo alle Siligate erano le due e mezzo del pomeriggio Lungo la strada adriatica all'altezza di Colombarone Enrico Ambrosetti, 66 anni, originario di Fiuggi ma residente da molti anni in Austria In vacanza a Misano Adriatico stava pedalando insieme agli amici ugualmente austriaci In direzione Pesaro Cattolica A un certo punto la sua bici in fibra di carbonio ha preso una buca Ha sbandato e l'uomo è caduto Ha sbattuto contro il palo, contro un palo Mentre sono sempre molto gravi le condizioni di Livia Cardinali 56 anni, sposata, due figli, ricoverata in rianimazione La maestra della scuola Don Bosco, travolta sabato scorso sulle strisce pedonali di Via Ponchielli a Pesaro L'auto condotta da un uomo che aveva più di 90 anni Suonano alla porta e lo rapinano Terrore in casa di un tabaccaio Ecco la storia di Giorgio Mulazzani, 63 anni Tabaccaio a bottega di Colbordolo Che racconta la rapina che è avvenuta l'altra sera poco prima delle ore 21 Uno dei banditi era a volto scoperto È stato conosciuto dalla vittima E questo signore, questo tabaccaio è stato derubato quattro volte dal luglio scorso Torniamo a Fano per parlare un attimo dei passeggi Niente folla per il bando Presentata una sola domanda Il comune tira dritto comunque E tira un sospiro di sollievo Soprattutto la concessione dura 6 anni Gestirà anche il chiosco interno Iscrizione ai servizi estivi per bimbi da 1 a 6 anni Domande entro il 24 aprile prossimo Domande che vanno presentate all'ufficio Iscrizioni dell'assessorato ai servizi educativi Che si trova in Via Vitruvio 7 Cambiamo giornale adesso Andiamo sul Corriere Adriatico Anche qui Tabaccaio minacciato e rapinato In azione due banditi armati di coltello L'esercente dice uno è stato un mio cliente Probabilmente dice questo uomo Si tratta di due uomini del posto Questo è quanto ha riferito anche ai carabinieri mulazzani Entrambi sono originari del napoletano L'accento era riconoscibile Credo che il rapinatore travisato risieda a bottega Mentre l'altro forse a Montecchio Anziano si perde nel bosco Ad Urbino l'amico dall'allarme L'ottantenne è stato ritrovato dai vigili del fuoco Raccoglievano sparagi in una zona piuttosto impervia Lungo la strada che porta a Palazzo del Piano Mentre nove patenti sono state ritirate Pizzicate anche tre donne Ma pensate nei guai anche un neopatentato Un neopatentato ubriaco al volante Le pattuglie dei carabinieri Non solo lungo la statale Ma anche nelle principali vie della zona del mare Poi a Fossombrone invece Fossombrone la piaga delle incursioni notturne Negli stabili Come l'ex asilo nido Oppure il palazzetto dello sport Dove l'altra sera L'altra sera i vandali sono entrati Sabato notte sono entrati di nuovo in azione 24 ore dopo Che gli stessi vandali I gnoti avevano forzato una finestra Per entrare invece nei locali Dell'ex asilo nido di Viale della Repubblica Sempre a Fossombrone La pagina di Fano invece Il sindaco promette tolleranza zero Già in campo l'esercito Marcheggiani annuncia il servizio notturno Dei vigili urbani Altri danni al Lido I danni in un'abitazione del Lido Di una scorribanda della scorsa estate Qualcuno lo ricorderà Quando con una bomboletta spray Deturparono Le scrissero Vedete Con il loro linguaggio Insomma Scrissero nelle porte Nei muri Di queste abitazioni Poi altri particolari del Lido Le scritte nel sottopasso La mente fatiscente Da Terzo Mondo Ma nemmeno Del sottopasso di Viale Cairoli L'ingresso Questo qua Insomma Solidarietà invece Bipartisan Per il ristoratore aggredito Tante le voci Che si sono levate In queste ultime ore In sostegno al ristoratore Aggredito Al quale è andata La solidarietà di tutti In modo politicamente Bipartisan Ancora Sulle altre pagine Del Corriere Adriatico La politica Carloni E del vecchio Ora amici di lista Ex candidati sindaco Divisi un anno fa Da una feroce polemica Con loro c'è anche La cianca merla La lista di spacca Riaggrega a sorpresa Esponenti fanesi Del nuovo centrodestra Come Carloni Dell'Udc Del vecchio E dell'ex partito democratico Ovvero Oretta Cianca merla Accuse di tradimento Dimenticate Lavori pubblici Intercomunali La proposta di Severi Anche per la sicurezza Verde e patrimonio Ad Aset Il capogruppo Di noi città Sollecita Nuove visioni strategiche Per superare l'impasse Dei tagli Al bilancio Ancora dal Corriere Riparte solo Chi punta All'export E l'analisi Dei soci Della banca Di credito cooperativo Sulla situazione Economica Del nostro territorio Un'analisi Che è stata fatta Durante L'annuale Assemblea Dei soci Che si è tenuta Domenica scorsa Al teatro della fortuna Soci della BCC Di Fano Per approvare Il bilancio consultivo Del 2014 Chiuso Con un utile Al netto delle imposte Di un milione Errotti Ok Andiamo Sulla pagina Adesso Sulle pagine Del messaggero In apertura Sulla pagina Di Pesaro Regione Il PD Ritira Gli assessori Basta collaborare Con Spacca Oggi L'annuncio Del segretario Regionale Comi Anche Viventi Si unisce Sondaggio Sulle regionali Piepoli Dice Sono sorpreso Io stesso Dal suo 35% L'alleanza Con Forza Italia Di Spacca Non incide A centro pagina Vedete la fotografia Della bicicletta Dell'austriaco Caduto E che ora Si trova in gravi condizioni Caduto a Colombarone Poi Sempre sul Messaggero Si parla di università Che affronta Il nodo Di Pesaro Studi Si riunisce Il senato accademico Il pressing Di Agorà Poi La meteo Con il sole Che domina Per tutta la settimana Entriamo allora Nelle pagine interne Del messaggero Torniamo sul sondaggio Di Piepoli Sarà testa a testa Non è colpa mia Dice il sondaggista L'analista Ceriscioli Non ci crede Il PD Mi stima molto Anche io Sorpreso Dal 35% Di Spacca Evidentemente Spacca Ha ancora Dei consensi Poi Sugli oratori Intesa Tra Spacca E il Cardinale Menichelli Sono stati siglati Ieri mattina Due protocolli Di intesa Tra la regione Marche E la regione Ecclesiastica Marche Sulla valorizzazione Delle funzioni Socioeducative Degli oratori E l'assistenza Ai sacerdoti Anziani Non autosufficienti Appartenenti Alle diocesi Marchigiane Alla firma Gian Mario Spacca E il presidente Della conferenza Episcopale Marchigiane Il cardinale Edoardo Menichelli Poi andiamo Sull'altra pagina Del messaggero La cronaca Investita Da un Novantenne Caso Finisce In Parlamento Stiamo parlando Della maestra Che è in fin di vita Il PD Chiede Agli eletti Pesaresi Una legge Più severa Per chi rinnova La patente Dopo gli 80 anni Un altro grave incidente Lungo la discesa Della Siligate Un ciclista Amatoriale Trasferito Alla torrette In eli Ambulanza Poi Sempre Dal messaggero Impotenti Contro i furti Il centro Di riciclaggio È costretto A traslocare Telecamere Vigilanza Non fermano Le continue Razzie Marche Multiservizi Si arrende E chiuderà Via Dell'Acquedotto Sulla pagina 41 Invece Sempre del messaggero Provincia Inonda In televisione Lo sfascio Dei servizi Il programma Di Rai 3 Report Dedicato Alla riforma Degli enti Ha preso Il caso di Pesaro A modello Per le conseguenze Negative I tagli Dei finanziamenti Statali Stanno mettendo In ginocchio Soprattutto La manutenzione Delle strade E la gestione Delle scuole Poi Anche qui sotto La notizia Del tabaccaio Rapinato Dai Balordi Per la quarta Volta Dalla mese Di luglio E ancora La pagina Di Fano Notti Di vandali E violenze All'Ido Il sindaco Seri Dice E parla Di tolleranza Zero Da amministratori E commercianti Solidarietà Al ristoratore Aggredito Ravagli dice Io sono pronto A perdonare i ragazzini Ma sono colpito Dalla loro Arroganza Le associazioni Di categoria Chiedono un incontro Con il comune Porre un freno Prima Dell'estate Poi Ancora Più sotto A San Costanzo Un riconoscimento Per il maresciallo Che salvò Un diciottenne Dal suicidio Un tentativo Di suicidio Avvenuto Nel dicembre scorso Sventato Dal coraggio E dalla prontezza Di riflessi Del maresciallo Domenico Pellegrino Comandante Della stazione Di Mondolfo Poi ancora più sotto Altre Altre notizie Mentre Dalla pagina Sempre Del Messaggero Di Pesaro Chiudiamo Con questa notizia Gradimento Dei sindaci Matteo Ricci È il più amato Nelle Marche Diciassettesimo Nella graduatoria nazionale Lui dice bene Ma i risultati Si misurano Alla fine Della legislatura Ed è tutto Per questa edizione Della nostra Rassegna Stampa Grazie per averci seguito E arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.